È stata un'esperienza emozionantissima perché ho sentito un entusiasmo sincero, una voglia di capire che in qualche momento mi ha davvero emozionato, ho avuto un attimo di voce rotta dall'emozione. Mi piacerebbe moltissimo raccontare alcune storie di cronaca nera italiana degli ultimi anni e penso per esempio alla vicenda di Marta Russo, è uno degli eventi, dei fatti degli ultimi anni che più mi ha colpito. L'energia creativa dei giovani va soltanto accolta perché quella ce l'hanno loro e la grande fortuna che abbiamo noi quando li incontriamo è quella di ricevere questo flusso energetico e è un rapporto quasi parassitario, io sento di aver bisogno di quell'energia, sono io che me la prendo. Mi piacerebbe dirvi che dovete cercare di andare a dormire sempre con la coscienza a posto.